Ora adesso passiamo al dialetto ferrarese, Maurizio Musacchi, che ci presenta appunto qualche cosa, un dialetto ferrarese. Io normalmente faccio una serie, quindi adesso dopo un po' di attrattori così bravo e comico, ha portato una cosa serie, mi vergogno un po', però l'ha portato a quel serie, perché, perdonatemi, è anche molto seria la cosa, è una poesia. Dunque, parlando sempre di come intendere parlate, per esempio, aio, il dialetto ferrarese vuol dire due o tre cose, o, e anche qualcos'altro, e ho spionato la finestra, vuol dire, ho spiato, vuol dire anche, insomma, è un po', ci sarebbe da incappeggiare la strada qua. Detto questo, vi leggo questa poesia, ripeto, purtroppo potrei anche fare qualcosa di comico, però questa è una cosa serie. È un po' la storia, anche brutta, di quello che sta succedendo in giro, ricordo anche. Sicni non è molto più storia, ma transcendenza. Histò visto vita, lavor, malattia e morte. e tanta altra situazione insieme là. E ho sentito siga, uclar, ridere e bacallare, bostiare e sorgere la mia città. E ho guardato in certi fatti politiche, mes pegg, prilodol, e magabà. E ho campato armando dal Covid-19, sperando di finire un prezzo per la calamità. E ho guardato in tua amicizia e il falso promesso. Ma alla fine, ho capito e mi sono sgaggato. Ho soltato noni, papà e mamma, spero da tempi e da infinità. Ho provato a capire la vita, e perché il destino odio e mi la regalà. Ho tant'anni adesso in tal gruppo, s'avanzo a stendermi in tutti i miei spianati. Allò, allò, allò vi sono sperando di tutto il mondo, ma in conclusione, mi sento solo sconì e immagurà. applausi e immagurà. Applausi e immagurà. Applausi e immagurà. L'estemperale, l'ottimo, la cosfera che ho un po' passato di livello, c'è una vecchia poesia, una vecchia poesia che dedico a tutte le donne, vieni, 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 lo sai cosa ti senti, ti sta arrivando, io mi fio ci l'ho mai. Questa qui è una cosa molto romantica. Mira, com'altro è il grisum, sai che io è il grisum. Applausi e immagurà. Applausi e immagurà. far pensare a te e alla notte andrò a me anche perché lo fanno. Applausi e immagurà. Applausi e immagurà. Allora, siamo sempre nel vialetto ferrarese e in questo caso chiamo Claudio Natati. Prego Claudio. Allora, un attimo, davanti al microfono che sennò non ti sento. Ho bisogno sia degli occhiali, delle sorpresse, e del testo. Allora, io vi presento una breve testimonianza di Alentale che ho scritto in un semplice sonetto. Questo sonetto naturalmente racconta, direi che non mi sono dispiegato, però ve lo leggo e direi che lo preferite immediatamente. E' un più vicino. Sì, perfetto. Forse è un pochino più alto. Che altro so. Ecco, ci siamo? Sì. La conquista del dialetto, da parte mia. L'ora li oscureva, ma mi li poteva. La mia storia le cominciasse. Al dialetto al mia la sta proibì. Era il parola qui capardeva. Ieri sicuri miei. L'ora i accardeva. E im li imponeva cert tutti di. Sol d'italiani, all'hi era fat per mi. E guai, si im sentiva che els cureva. Mai la prohibizione es rispeta mai. Scorre in dialetto l'amfaseva gran. L'am dava coraggio a affrontar i guai, con cui la mia età è poc più gran. Fora al cap, il scurso, era tutto natale, senza rego per risposta e mai. Grazie.